Domani inizia il nuovo campionato di Serie D 2016-2017. Anche quest'anno al via due formazioni salernitane, Gelbison e Agropoli, che sono inserite nel Girone H assieme a Compagini, oltre che della Campania e della Basilicata, anche della Puglia e del Lazio. Per i rosso-blu vallesi della Gelbison si tratta del sesto anno consecutivo nel principale torneo dei dilettanti. La squadra, che è stata affidata nuovamente alla guida tecnica di Alfonso Pepe, debuterà in casa al Morra, ospitando i laziali del Lanzio. A dirigere l'incontro sarà a Monaco di Termoli. L'appuntamento arriva dopo le due vittorie ottenute dai rosso-blu nella Coppa Italia di categoria. Inizia invece in trasferta l'Agropoli, che va in Basilicata sul campo della Vulto-Rionero. Molti volti nuovi a disposizione del rinconfermato trainer Santo Suosso. Proprio alla vigilia di questa sfida sono arrivati infatti sei nuovi calciatori. Si tratta del portiere Montella, di Consiglio, Chiariello, degli Santi, Rizzo e Zucca, mentre ha lasciato il gruppo Manfrellotti, che si è accasato alla Versa. La gara in programma a Rio Nero sarà diretta da Cavaliere Di Paola. Il torneo per i Delfini parte con un handicap, in quanto il Tribunale Federale Nazionale ha combinato un punto di penalizzazione alla squadra del Presidente Cerruti. La decisione è arrivata a seguito dei mancati pagamenti ai tesserati. Analogo provvedimento è stato adottato anche nei confronti del Bisceglie, che fa parte di questo stesso raggruppamento. Le gare di Gelbison e Agropoli inizieranno alle 15. In questo fine settimana parte anche la Coppa Italia di Eccellenza e Promozione. Il Valdiano del tecnico Manfredini giocherà alla gara del primo turno sul campo della Calpazio. Questa gara avrà inizio alle 17, mentre l'inizio ufficiale del campionato è previsto per il 10 e 11 settembre.